Ciao a tutti bambini, visto che domani è la festa della mamma, abbiamo pensato di regolargli un oggetto facile e veloce da fare. Iniziamo a prendere l'occorrente. Ci servirà una bottiglia e delle forbici. Mi raccomando bambini, fatevi aiutare da un adulto per tagliare. Ok, dopo aver tagliato la bottiglia, andate a prendere una calzamaglia vecchia. E rivestite la bottiglia. Una volta rivestita la bottiglia con la calzamaglia del colore che volete, tagliate l'eccesso e lasciate i bordini. Poi mettete i bordini dentro e fissate il tutto con delle mollette. In questo modo. Ok, ora andate a diluire della colla vinilica con dell'acqua e iniziate ad incollare la bottiglia dall'esterno. Per fare effetto brilantinato, noi abbiamo usato della porporina anche per rendere l'oggetto più prezioso. In questo modo. Allora, quando dovete asciugarlo, lasciatelo al balcone al sole per circa mezza giornata. Togliete le mollette. Ora possiamo pensare al decoro. Allora, sul bordo, a distanza di un dito, con un punteruolo, andate a bucare il bordo. E infilate intrecciando il nastrino, a colore a piacere. Una volta finito, fate un nodino. E tagliate l'eccesso. Una volta tagliato l'eccesso, mettetelo internamente. Ora, continuate ad impreziosire il vostro oggetto, mettendo dei nastrini colorati. Poi, andate a decorare con delle paillettes, con dei brillantini, quello che volete voi. Una volta che siete soddisfatti del vostro lavoro, non vi resta che regalarlo alla vostra mamma. Mi raccomando, bimbi, provateci anche voi. Fate un regalino speciale alla vostra mamma. Un abbraccio. E abbracciate anche le vostre mamme. Ciao, bimbi. Ciao. Ciao.